Nella serata del 9 aprile alle ore 20 nella splendida cornice del Teatro Giordano di Foggia si svolgerà Note di Pace, serata di solidarietà per i bambini ucraini. Una manifestazione promossa grazie a un proficuo lavoro di squadra tra un pool di associazioni cittadine e istituzioni. Ottavia, Suoni del Sud, Link Foggia, UDS Foggia, Possibili Scenari, Gruppo Scout Clan Gesci Foggia 1, Lions Club Foggia Arpi, Rotary Club Foggia Umberto Giordano, Interact Foggia Umberto Giordano, Parco Città e il patrocinio della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e il Comune di Foggia. La serata vedrà la testimonianza di Svetlana Saltanova, i reading di Roberto Galano, Teatro dei Limoni, Anna Laura D'Ecclesia, Teatro della Polvere e Gianmarco Saurino in collegamento. Poi sarà la volta di un talento e figlio di questa terra, capace di farsi conoscere e apprezzare sullo scenario culturale nazionale, Carmine Padula. Con lui l'ensemble Suoni del Sud conduce la serata, Gabriele Mucelli. Sono molto contento perché ci sono tante associazioni anche di ragazzi e quindi per me è un valore aggiunto e sono davvero onorato. Poi suonare al Teatro Giordano a Foggia è sempre un'emozione grandissima. Questo è un evento particolare, tu però sei in giro anche per altre date, quali sono i tuoi programmi? Sì, in realtà proprio questa data di Foggia ci ha dato l'incentivo, la spinta di amplificare questo messaggio di pace e di solidarietà. Quindi in maniera del tutto naturale sono arrivate dopo Foggia tante altre richieste di concerti per la pace. Quindi poi saremo impegnati in una serie di date che concluderemo al Teatro Verdi di Firenze il 6 maggio. Tu torni spesso nella tua terra, stavolta però torni per un motivo particolare, che emozioni provi? Sì, io in realtà come cittadino, come ragazzo sono rimasto molto provato e molto deluso ecco anche di quello che sta succedendo alle porte di casa nostra. Quindi credo che ognuno di noi abbia la responsabilità di dire no alla guerra e di contribuire ognuno a modo proprio. io sono bravo solo con la musica, quindi quello è il mio modo di contribuire, però davvero è bello che ognuno contribuisca anche con poco perché deve essere un messaggio unito, collettivo ed universale, no alla guerra.